La ginecologia di Sulmona, Atri, Ortona e Penne, i cosiddetti puntinaci dattivi, assicurando ogni iniziativa per garantire sempre la maggior sicurezza dei nascituri e delle madri. E' semplicemente differente rispetto alla successiva risoluzione, cioè quella di maggioranza, esclusivamente per un passaggio, cioè voi scrivete di riesaminare, noi sostanzialmente chiediamo di sospendere e riesaminare. Scusate che se il Presidente vuoi giustamente le dichiaro, noi che riesaminare lo chiediamo da sei mesi, oggi non si può dire riesaminare. Sospendiamo, poi si mettono le valutazioni. Ci sembra più serio quindi a sospendere e a ritirare immediatamente il decreto confissariale 10-2015 che disponeva a chiusura di riempirarsi, come ho detto prima. Grazie. Prego, progettiamo il voto per l'appello dominato. Prego. Prego, proviamo per l'appello dominato. Prego, proviamo per l'appello dominato. Grazie Presidente, approfitto, voglio ringraziare tutti i sindaci per la partecipazione. Voglio decisare che il Movimento 5 Stelle ha dato un contributo fattivo a questa risoluzione, soprattutto al dispositivo. C'è un solo sistema per difendere tutte e quattro i punti nascita che è quello che sospetterebbe gli effetti del decreto. Ora la maggioranza presenterà la prossima risoluzione, se è possibile interveremo e spiegheremo la differenza nei termini, perché la maggioranza si deve assumere la responsabilità politica di questa chiusura. Grazie. 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 Procediamo alla votazione per il voto nominale. Di Dalmazio, di Ignazio, di Matteo, di Nicola, di Bangrazio, Feppo, Gatti, Gerosonimo. Bravo! 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 Finalmente! Paolucci! Bergoglio! Bergoglio! Bravo! 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 Bravi! Grazie! a casa Ranieri Rocco Smargassi Sospiri 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 e poi a casa adesso dimettiti adesso dimettiti adesso a casa adesso e lì andai dimissioni 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 dimissioni